Una cena a sostegno delle vittime di violenza è l'iniziativa organizzata dalle donne della NAO, il sindacato dei medici dirigenti, che da tempo in Abruzzo promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione dedicate ai problemi e alle esigenze femminili. L'iniziativa, che si terrà sabato 26 gennaio alle ore 20 e 30 nel ristorante Gilda a Teramo, è organizzata in collaborazione con il Centro Antiviolenza La Fenice e con la Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo. I fondi raccolti durante la cena saranno infatti devoluti all'attività del Centro Antiviolenza e alla Casa Rifugio Maia per le donne maltrattate, strutture gestite dalla provincia per ospitare e assistere le donne vittime di violenza. Si tratta di servizi pubblici, gratuiti e anonimi. La NAO ha voluto collaborare con le splendide iniziative delle donne della provincia con questa cena che rispecchia perfettamente l'ideale che si sta generando nell'ottica di una nuova cultura all'interno del sindacato poiché con la femminilizzazione progressiva della professione medica la NAO ha sentito il bisogno di una cultura nuova più attenta alle problematiche femminili delle donne che curano e in quest'ottica in cui è fondamentale anche fare rete con le altre donne sia all'interno che all'esterno dell'associazione ci è sembrato ottimale stringere questa collaborazione con le pari opportunità della provincia a sostegno delle loro iniziative, questa in modo particolare. Grazie a questa iniziativa della NAO il centro antiviolenza alla Fenice si doterà di un numero verde quindi un numero gratuito in modo da offrire ulteriori possibilità alle donne che forse oggi alcune di queste ancora non hanno la possibilità neanche di fare una telefonata al centro. Inoltre approfitto per dire che il centro antiviolenza osserverà un ulteriore giorno di apertura sarà il venerdì già da questa settimana dalle ore 10 alle ore 12 e così il centro antiviolenza alla Fenice sarà presente sul territorio per 6 giorni su 7.